con il destro mette la palla dentro dove c'è Maceratesi al limite dell'aria buono lo scarico verso Aiello che va sul destro, Murato Guerra che putta il suddino in pettaio, va sul sinistro, poi sul destro, ancora sul sinistro il grandissimo gol del Roviano, ha segnato Guerra, 1-0 per gli ospiti parte di Cezzi, centrale, Venditti respinge in qualche modo si allarga sul sinistro bene e sempre con lo stesso piede mette in mezzo palla sporchata da Brugiotti che quasi beffa Proietti e quindi Maso centralmente prova a sfondare l'Olimpica con il tiro da fuori, Proietti la tiene il break l'Olimpica, sulla sirena del primo tempo, la palla messa in mezzo dalle parti di Maurizzi che adesso riesce a girarsi, Maurizzi, Maurizzi con il sinistro deviato dal difensore del Roviano, la ripresa all'Olimpica sulla sirena, incredibile Barba, ancora ben salà che entra in area di rigore con il destro, deviato, calcio d'angolo il primo del secondo tempo per la Roviano Somma, in un fazzoletto, si gira, bene ancora Somma, palla messa dentro, deviata in calcio d'angolo forcing dell'Olimpica l'invito di Somma è buono palla sopra con dolcissimo il lob che si perde sul fondo, occasionissimo Olimpica Tivoli a un passo dal 2 a 1 Chiusura in qualche modo, solo per un secondo di Folgori Somma dentro l'aria, palla che arriva a Maceratesi che cade a terra, la palla è ancora buona Andrea Agili dal limite, Murato Ci ha abbassato Apa Palla imprecisa però del centrale di difesa e quindi occasione, Ben Salà al limite dell'aria, col destro, Murato da Apa, e con la barba d'esterno ancora il muro con il destro, ad alzarla in zona Maceratesi che prova la spizzata c'è Maurizzi che carica il sinistro palla messa dentro occasionissima sui piedi di Maso ma è ancora 1 a 1 Ferruzzi che va dentro, profondo verso Botticelli chiusura corner break con Dicensi che alza una palla bella dalle parti di guerra che ha già fatto male in questa partita occasione palla messa dentro che si perde sul fondo Apa con l'esterno Maceratesi la fa passare grande idea verso Maurizzi centrale debole para Proietti finisce qua Olimpicativo di Roviano 1 a 1 come l'andata un punto a testa che non fa felice nessuno Grazie a tutti.